Wabalaba dab dab, bentornati su No Mamamazzo, bentornati da Lucca Comics 2021, tornare a rivedere le stelle. Siete stati a Lucca Comics? Non siete stati a Lucca Comics? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io ho voluto fare comunque un salto, quest'anno sono andato solo nella giornata di venerdì, che appunto presumevo fosse quella più calma, e così è stato, effettivamente è stato davvero tranquillo, ecco, anche a livello di gente, non vi aspettate la mole solita di Lucca Comics, si poteva girare tranquillamente per gli standard lucchesi del comics, quindi sono stato felice comunque di aver fatto una capatina, ovviamente con un solo giorno non ho potuto fare tutte le cose che avrei voluto, mi sono perso chiaramente Caparezza, che era di sabato e domenica, mi sono perso la Ecto 1 dei Ghostbusters, che era al palazzetto, se non sbaglio, al palazzetto dello sport, però, vabbè, così è stato, peccato, spero di vederla prima di morire, ma comunque sono qui a parlare con voi dei miei acquisti, quindi questo è un video acquisti, non li faccio mai, anche perché faccio pochi acquisti, non ne vale la pena, però, dai, tornato da Lucca, ve lo voglio far vedere, innanzitutto ho preso questa fantastica maglietta di Rick e Morty, nonostante il mio voto di non prendere più magliette nerd, perché ho l'armadio pieno, ne ho presa comunque una, mi è piaciuta un sacco, l'ho presa tra l'altro a Acquarelli e Kashmir, che vi metto qua sotto in descrizione i vari link, così eventualmente, se volete, se siete di Lucca, perché sono proprio di Lucca, se volete passare, trovate lì queste fantastiche magliette, dico queste perché ne ho preso una seconda, che è quella che mi ha spinto ad entrare in vetrina, ho preso questa maglietta dei Ghostbusters, che probabilmente presto mi vedrete in un prossimo video in cui parlerò di Ghostbusters, come sapete il 18 novembre esce Afterlife, o Legacy, che dir si voglia, e quindi questo mese lo dedichiamo a maggioranza ai Ghostbusters. Poi, innanzitutto, ho rimediato a una mia lacuna dilaniata comprando Spazio Profondo, di Roberto Recchioni, che non avevo ancora letto, scusate, devo dire che mi è piaciuto, ovviamente sì, stile recchioniano inconfondibile, soprattutto dopo anche il successo di Orfani, probabilmente l'esperimento era anche quello di spingere i lettori di Orfani a comprare Dylan Dogg, con questa collaborazione, però, devo dire, tra i primissimi numeri di Recchioni iscritti per Dylan Dogg, su Dylan Dogg, ho preferito ovviamente Mater Morbi, che è più vicino alla linea classica, classica nel senso al messaggio che solitamente dà Dylan Dogg, qua invece è un classico horror nello spazio, semplicemente. Però, carino comunque, molto carino, la scelta del colore, anche lì, in assenza di anniversario, era un chiaro riferimento alla serie fumettistica Orfani. Poi, sempre parlando di Dylan Dogg, mi sono fermato sullo stand di Cronach e di Topolinia, di Enera Elena Mirulla, e ho trovato per caso questo. Dylan Dogg, non l'ho ancora letto, quel giorno lì, tra l'altro, ero vestito da Dylan Dogg, insieme al mio amico Mario, che era vestito da Samuel Stern, dato che ha il Physique du Roel, e quindi non potevo non comprarlo. Questa è l'edizione di Luca Comics 2021, era già uscito nel 2016, ha una ristampa di 50 copie numerate. Poi, sento sempre parlare di Super Tits, sempre da Elena Mirulla, anche alla luce del fatto che seguo Regina Cosplay 2.0, ve lo metto sempre qua in descrizione, tutto quello che sto dicendo, e volevo capire a quale personaggio si era ispirato, ed è questo, ho comprato il numero uno, perché ci sono parecchi numeri, come il numero di Dylan Dogg stesso vi fa vedere, ci sono nove numeri, e volevo capire da che parte iniziare, per capire quantomeno la storia del personaggio, e quindi mi sono fatto questa cultura. Poi mi tengo, sì, me lo tengo in fondo, poi mi sono comprato questo fantastico oggetto di scena, che è Squadra 666 Cacciatori di Demoni, che è il fumetto utilizzato nel film Il Mostro della Cripta di Misischia. Vi metto qua nelle schede, qua in descrizione, il mio video in cui faccio la recensione di questo film. Quindi, come dice lo stesso editoriale qua dietro, questo non è il fumetto del film, ma è proprio il fumetto che ha in mano il protagonista quando va a trovare l'autore, eccetera, eccetera. Quindi questo è a tutti gli effetti, è la storia di Squadra 666, ed è a tutti gli effetti un oggetto di scena, e quindi ho voluto prenderlo. Ovviamente non era unico, lo avevano stampato in molte copie. Poi, dulcis in fondo, sì, ho comprato Samuel Stern, il nuovo incubo. Voi direte, vabbè, potevi comprarlo anche tranquillamente in libreria. È vero, però, principalmente la missione quest'anno era comunque andare allo stand della Bugs Comics, conoscere Gianmarco Fumasoli e farci due chiacchiere, e sono rimasto davvero contento appunto dell'incontro. Tra l'altro, devo recuperare la foto che abbiamo fatto io, Gianmarco Fumasoli, e il mio amico che interpretava Samuel Stern. Poi ho preso un'altra cosa, ma non è per me, è un regalo, quindi non posso fare spoiler, perché la persona che lo riceverà guarda questi video, quindi non ve lo dico, ve lo dirò in un altro video, però tranquilli, se continuate a seguirmi che lo saprete in un altro video. Poi, anche se tecnicamente non è un videoacquisti, avevo portato anche il numero 1 di Samuel Stern, quello da Edicola, per farmelo appunto autografare, sempre da Fumasoli. Voi come avete passato questo ponte di ogni santi? Siete andati a Lucca? Avete festeggiato Halloween? Scrivetemi qua sotto come l'avete festeggiato, scrivetemi qua sotto se eravate in costume e quale costume avete fatto. Io, se mi avete seguito su Instagram, sono andato appunto un giorno a Lucca, il giorno dopo sono andato a Moviland, perché come sapete quest'anno mi sono innamorato di Moviland, che già mi piaceva, ma quest'anno gli attori, i performers, sono stati talmente bravi da spingermi a ritornare in Fantastico Parco nel giro di un paio di mesi. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, non so dirvi quando usciranno i prossimi video, perché potrebbero uscire fitti questa settimana, ma restate sintonizzati. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.